Il ruolo delle imprese è fondamentale, come abbiamo visto dai dati dell'Enea c'è una ripresa di investimento nell'efficienza che non ci aspettavamo con i tempi della crisi. Bisogna ovviamente creare le condizioni, il cosiddetto business model per le imprese nell'investimento nell'efficienza. È importante quindi il concetto di costo marginale, quindi la convenienza dell'intervento. Spesso si ripaga da solo, quindi c'è un guadagno, il costo è negativo. Altre volte ci vuole un incentivo. Il ministero deve avere questa capacità di individuare la soglia oltre la quale intervenire e al di sotto della quale possono essere le imprese a investire autonomamente.